Ho ordinato una pizza a Margherita, però poi me ne sono pentita perché ci volevo le patatine E allora che si fa? Si rubano le patatine di lui e il suo panino No, 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 lascia le mie patatine Sofì, hai preso anche la verdura Ok, il gioco è fatto, il gioco è fatto, et voilà